E continuiamo il nostro mercoledì con la nostra consueta finestra sulla politica per un largo focus sulle novità che riguardano la Campania e lo scenario nazionale tutto. Lo facciamo insieme al nostro ospite di oggi, il bentrovato a Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Partiamo da un provvedimento del governo che sta creando non poche polemiche, direi, la valutazione dei magistrati e del loro operato che sta sollevando veramente un polverone di contese. Come commenta questo che sta accadendo? Beh, io ho sempre pensato che non c'è ragione perché i magistrati non debbano essere valutati, giudicati esattamente come accade a chiunque di noi. Cioè noi abbiamo un sistema da questo punto di vista molto distorto e soprattutto la distorsione è nel fatto che dietro l'indipendenza, l'autonomia della magistratura, si vuole fare poi inserire dei concetti che sono completamente diversi. Cioè quelli per i quali di fatto buona parte della magistratura sana vede però al suo interno anche persone che nella sostanza non rispondono alle proprie azioni e approfittano di questa cosa per poter poi muoversi in modo a volte autonomo. I dati di tante inchieste, col fallimento di inchieste che sono poi miseramente naufragate alla prova del tribunale, i tempi della giustizia infiniti che dipendono a volte anche dai dati per cui non vengono depositate le decisioni. Recentemente insomma abbiamo scoperto che c'era una magistrati che da anni non depositava le sue sentenze e ci sono molte altre vicende come queste, impongono sicuramente una riflessione. Il governo peraltro ha fatto quello che io spero sia solo un primo passo, cioè quello di stabilire una regola per i quali i magistrati per avere un avanzamento di carriera, per avere un trattamento economico in più, debbono superare un vaglio che peraltro in una specie è affidato ai loro stessi colleghi. Quindi io non comprendo addirittura la preoccupazione per la quale i magistrati dell'associazione nazionale magistrati, in particolare alcune categorie che francamente mi sembrano politicizzate e che dal primo giorno di questo governo si muovono in una direzione di contrarietà a tutti i costi, sollevano barriere. Io dico che è normale, ciascuno di noi, addirittura per essere promosso viene valutato nella pubblica amministrazione per salire di grado di fare un concorso dove devi vincere, dovunque c'è un avanzamento presuppone la verifica delle attività che tu fai, esattamente quanto accadrà con i magistrati. Semmai il vero tema è quello di dover introdurre dopo questo passaggio alcuni elementi che sono fondamentali a partire dalla responsabilità. Io vi racconto brevemente come funziona in questo paese. Se un magistrato fa una sentenza e un cittadino ritiene che quella sentenza sia sbagliata per responsabilità del magistrato, oggi deve giocare una cosa complicatissima, deve fare una prima istanza che non serve a valutare in tribunale se ha ragione o ha torto nel lamentarsi, ma solo a capire se può o meno fare la causa. Dopo che è stato fatto questo primo vaglia preliminare potrà, se i colleghi dell'altra parte diranno di sì, potrà agire, ma non agirà nei confronti del magistrato, agirà nei confronti dello Stato. Se dovesse vincere la causa lo risarcirà non il magistrato, ma lo Stato, che poi potrà valutare se agire nei confronti di questo magistrato per riprendersi quello che ha dovuto pagare al cittadino. Vi pare una regola normale? Questa è la legge che oggi abbiamo e che è stata, diciamo, voluta e che viene difesa a tutti i costi dal sistema della magistratura italiana. E secondo me è una legge sbagliata. Quindi il provvedimento, secondo lei, che tutela i cittadini o la democrazia in qualche modo è davvero in pericolo? No, il provvedimento è assolutamente, francamente, anche addirittura banale. Voi pensate, ripeto, il punto nodale. Chi li giudicherà sono i suoi colleghi. In un organismo che è un organismo distrettuale in cui votano solo i magistrati. C'è una componente cosiddetta laica che è composta da professori universitari e da avvocati che però non hanno per un'altra misteriosa guarentigie, cioè trattamento di favore dei magistrati, diritto di voto. Possono commentare l'operato dei magistrati, ma a votare saranno solo i colleghi. Più garantiti di così, francamente, non mi pare proprio il caso di discutere. Quindi la macchina della giustizia potrebbe velocizzare in qualche modo il suo percorso, anche alleviare i cittadini e lo stato dei tempi proprio, che a volte sono dannosi per tutti gli attori in essere? Io guardi, dico che su questo tema bisogna stare molto attenti, perché è una questione molto più complicata di quello che sembra. Negli ultimi anni sono state fatte delle modifiche per accelerare i tempi del processo. Se si va a guardare queste modifiche però, e io quindi lo dico da avvocato e da giurista, non sono favorevole a questo approccio, non si è velocizzata la giustizia garantendo una giustizia giusta, ma si è semplicemente tagliato spesso il diritto del cittadino ad avere una giustizia fatta bene. Perché non è soltanto quanto ci metti a aver ragione, ma anche aver ragione. Se tu crei delle regole per cui il magistrato si può appiattire sul precedente, per cui se trova una sentenza per un caso similare la può applicare e finisce lì, se ci sono delle precusioni procedurali per cui praticamente chi è in una condizione di difficoltà non riesce a provare immediatamente quello che è a fondamento del suo diritto, con questi meccanismi processuali di questi ultimi anni, di fatto non avrà ragione, ma avrà difficilmente il riconoscimento delle sue pretese. Ancora, se è sempre più complicato far causa, anche dal punto di vista geografico, abbiamo tagliato i piccoli tribunali e i giudici di pace che riguardano milioni di cittadini, quindi se la signora del piano di sopra mi fa un danno di qualche migliaia di euro e io per andare a far causa devo fare 100 km con la macchina o con l'avvocato deve fare 100 km per me, è chiaro che il costo di quella controversia mi scoraggerà da far causa, come pure se io per far causa devo tirar fuori centinaia, centinaia, centinaia o migliaia di euro addirittura in alcuni casi solo di tasse ipotetiche allo Stato per dei servizi che francamente fanno acqua a tutte le parti, è chiaro che ci pensano mille volte, ma questa non è l'esigenza che garantisce ai cittadini giustizia, è semplicemente un meccanismo in cui chi se lo può permettere fa causa e spesso addirittura l'effetto paradossale è che chi se lo può permettere ha un sistema che gli consente di non subire le cause. Voi pensate oggi quanto è complicato aver ragione con una banca, con un'assicurazione, con i cosiddetti poteri forti, che hanno un sistema di difesa che è stato realizzato in questi anni da un legislatore spesso più attento a queste cose e che poi ha trovato una sponda favorevole nella magistratura, per cui sostanzialmente ci troviamo di fronte a dei meccanismi che sono oggettivamente respingenti per il cittadino, che è quello che dovrebbe essere il principale beneficiario e attore di una giustizia degna di questo nome. Restiamo sul discorso circa la tutela del diritto per il cittadino. Lei si è tanto predicato per la difesa dei proprietari che si sono visti sottrarre le proprie abitazioni abusivamente. Qualcosa finora si è mosso? Finalmente la giurisdizione si sta muovendo qualcosa? Certo, nel senso che noi abbiamo sostenuto che non è possibile, come accade ogni tanto, una cosa incredibile, cioè la tua casa magari è vuota perché sei andato a trovare tua figlia in un altro posto, sei fuori un mese, se torni la trova occupata da qualche bandito che approfitta di un quadro normativo precedente per il quale cacciarti fuori è complicatissimo e ci metti anni. C'è gente che si è vista addirittura buttati i mobili dalla finestra, cose indecenti per i quali finora mancava una risposta normativa. Questo governo, tra le tante cose che sta facendo, ha introdotto finalmente un meccanismo che sanziona con molta efficacia e rapidità questo sistema. Ed è una prima risposta ad un bisogno fondamentale che è quello che noi stiamo provando a portare avanti, la legalità, il rispetto delle regole, la tutela del cittadino, la sicurezza, sono valori concreti, non sono slogan elettorali, che si raggiungono con degli strumenti e degli interventi che hanno l'ispirazione di un principio. Chi sbaglia paga ed è giusto che paghi e soprattutto ci vuole maggiore rigore nell'applicazione di questi strumenti. Lo abbiamo fatto per Codice della Strada, lo stiamo facendo per molte altre cose, che servono appunto a trasferire alla grande massa degli italiani che questo paese deve essere un paese in cui si può vivere serenamente garantiti nei propri diritti. Ecco, come rappresentante della Lega lei ha fortemente voluto misure contro la criminalità minorile. Quali secondo lei le strategie da adottare per arginare dei comportamenti dannosi che mettono poi in pericolo la vita dei nostri ragazzi? Due versanti sono quelli che vanno messi in campo. Il primo, quello appunto dell'inaspiramento delle regole, cioè un sistema lassista per il quale il minore, in forza del fatto di essere minore, sostanzialmente in modo anche indipendente dalla gravità del fatto, ha un trattamento che spesso è, diciamo così, ingiustificato. E quindi, da un lato il cambiamento dei costumi ha imposto nel disegno di legge che la Lega ha voluto far approvare in Consiglio dei Ministri, l'abbassamento dell'età pensionabile, poi l'eliminazione di una serie di paletti di favore, trattamenti che sono ingiustificati rispetto a reati gravissimi che in questi anni e questa città ha pagato un prezzo enorme, basta pensare al caso di Giorgio o di Pio Aimone, cioè Francesco Pio Aimone, che sono stati uccisi da giovani delinquenti che di fatto non avevano certo diritto a sconti o riduzioni. E questo è un pezzo importante che noi dobbiamo garantire. Nessuno sconto, anche se è minore, se fai delle cose gravissime come queste. Però poi c'è un altro tema, che è quello anche di creare le condizioni per un miglioramento sociale e questo impatta sulla responsabilità dei livelli anche istituzionali e locali. In questa città, in questa regione, le politiche che aiutano e sostengono le famiglie, specie quelle in difficoltà, le aree degradate, i territori che sono sostanzialmente dimenticati, nei quali la scuola è un miraggio o comunque non dà nessuna possibilità di essere sentita come uno strumento per l'elevazione e la crescita sociale, sono tutti in mano a delle istituzioni locali che hanno il dovere quindi di intervenire sotto questo versante, di incrementare il loro sforzo attraverso misure e risorse che sono anche disponibili e che spesso per sciatterie, indifferenza, non sciaranzi, luoghi comuni, diciamo così, restano nel cassetto. Noi abbiamo bisogno di investire perché i nostri giovani abbiano anche la sensazione di vivere in un territorio nel quale c'è una prospettiva di un futuro. Se non fai questo, gestifichi poi quelli che se ne approfittano e, diciamo così, governano attraverso la criminalità buona parte della nostra periferia. Quindi non solo i minori, ma anche i genitori devono prendersi la responsabilità di atti non consoni dei figli. Ed è questo anche parte del provvedimento normativo, quindi l'inaspiramento delle sanzioni non riguarda più solo i giovani, ma riguarda anche i genitori che devono essere finalmente responsabili della condotta dei propri figli. Non si possono girare dall'altra parte perché spesso sono addirittura i motori di quanto di negativo accade e quindi c'è bisogno da questo punto di vista di essere ancora più inflessibili che rispetto ai minori. Restiamo sull'attualità. Siamo nel pieno del confronto circa gli strumenti per combattere la violenza di genere. I provvedimenti adottati dal governo per lei sono esaustivi? Il tema della violenza di genere è un tema drammatico, nel quale probabilmente il centrodestra negli anni ha fatto sicuramente degli interventi importanti. La legge sullo stalking fu voluta dal governo del centro-destra. Oggi c'è un'azione che in qualche modo vuole recuperare anche una misura e strumenti che siano adeguati a tutelare la donna. Su questo c'è sicuramente un ritardo storico e culturale. Anche le polemiche che ho letto in questi giorni a proposito della vicenda di Giulia con affermazioni veramente incomprensibili o comunque inaccettabili rispetto alla disponibilità e all'indisponibilità che sono valori totalmente fuori discussione in un caso come questo. Credo che però ci insegnano anche che abbiamo bisogno di fare un investimento sociale su questo tema perché da questo punto di vista il riconoscimento del diritto della donna a essere serena e a fare la sua vita in tranquillità è importante, come è anche importante oggettivamente intensificare lo strumento di controllo e di tutela del territorio. I grigli allarme delle donne, spesso negli anni, oggi meno per fortuna, ma va molto incrementato questo tipo di intervento, sono rimasti inascoltati. Spesso le forze dell'ordine non hanno dato peso, spesso la magistratura non è intervenuta con l'adeguata durezza rispetto a questi eventi e poi spesso siamo arrivati a quei numeri che conosciamo che sono drammatici. Il cambio di passo va anche in quella direzione. Moltissima attenzione e prevenzione che significa impedire che ci siano altre vicende come queste. Noi la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia stamattina e di aver parlato anche di temi molto delicati appunto come la violenza di genere. Ringraziamo ancora una volta Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Noi ci vediamo tra pochissimo, dopo un piccolo break, rimanete con noi a Mattina Live.